Dibattito sull'immigrazione alla festa cittadina del Partito Democratico, la sfida per il PD è regolare questo fenomeno con una nuova legge di iniziativa popolare. La legge di iniziativa popolare punta a cambiare il sistema dell'accoglienza in Italia e soprattutto a volgere questa fase di accoglienza pensata per l'emergenza, per l'eccezionalità, in una capacità organizzativa volta all'integrazione. Io penso che la paura non vada alimentata, come qualcuno fa speculando su questo sentimento, ma vada governata. La risposta è un governo di questa situazione, una capacità organizzativa, risposte pragmatiche, non c'è nessun ideologismo, nessun buonismo nella proposta che abbiamo fatto. È un atteggiamento concreto che punta a dare sicurezza, a togliere dalla condizione di incertezza, di sofferenza e di illegalità tante persone, ma garantire anche la sicurezza dei cittadini italiani. Siamo in presenza di un'immigrazione che in qualche modo è alla ricerca di un lavoro che non c'è, alla ricerca di un futuro che è sempre più difficile. In questo caso bisogna tirar fuori le risorse migliori che sono fatte di una saggezza e quindi di unire al concetto dell'integrazione quello certamente della sicurezza, di far sì che i percorsi provvisori non diventino situazioni di incertezza a lungo andare e favorire anche un'integrazione di piccoli nuclei e non di grandi ammassamenti. Questo è quello su cui stiamo lavorando con un accordo che ha coinvolto la stragrande maggioranza dei comuni della provincia. Lei ha citato i grandi ammassamenti, il pensiero va alla situazione nel campo del Bione. Entro l'estate il campo andrà smantellato, abbiamo dato la nostra collaborazione alla Prefettura, quella è un'area di proprietà del Ministero dell'Interno che è destinata a vedere realizzata la nuova caserma dei Vigili del Fuoco e già nei prossimi mesi sarà necessaria renderla disponibile per alcune operazioni di verifica progettuale. Quindi nei prossimi mesi il campo verrà sostanzialmente smantellato a favore di insediamenti in città o fuori città, secondo quella logica che dicevo prima, di numeri più contenuti e fortemente legati a progetti anche di integrazione territoriale.